una buona serata a tutti amici di super j mentre l'anticiclone dell'azzore sta conquistando terreno verso la penisola il vortice polare ha raggiunto i paesi baltici e si sposterà domani verso i balcani durante il suo avvicinamento alla nostra penisola riuscirà a spingere aria molto fredda sulle regioni adriatiche da monitorare cosa potrà accadere nel weekend perché richiamato dal vortice polare giungerà sull'europa orientale il grande gelo siberiano e non si comprende ancora se possa giungere fin sull'italia in abruzzo vivremo una giornata quella di domani dai due volti soleggiata al mattino ma dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità sui settori orientali con associate deboli precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote collinari 300 400 metri si tratterà solo di un breve disturbo ed infatti venerdì il tempo migliorerà la ventilazione grecale giungerà nel pomeriggio e sarà di moderata intensità sulle zone costiere il mare da quasi calmo diverrà mosso le temperature minime di questa notte saranno comprese tra meno 6 e 4 gradi e le massime di domani tra 8 e 12 gradi per la meteo è tutto buon mercoledì sera a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti